Sono Andrea Galassi, ho avuto una piccola storia come calciatore qui a Parma, in serie Bilano di Sacchi, qui a fianco a me ho la storia migliore, credo, del Parma. Ho preso questa avventura, questa opportunità con Lorenzo Minotti, con il quale abbiamo già lavorato a Parma, a Cesena, in tre anni, lunghi, belli, dove abbiamo vinto anche due campionati, siamo salvati in serie A. e questa opportunità credo che qualsiasi persona che fa il mio lavoro avrei voluto averla e per me è un grande onore poter avere la possibilità di costruire qualcosa di importante in questa società che secondo me ha la potenzialità di arrivare ancora ad alti livelli nel giro chiaramente di un po' di anni. Per quel che riguarda l'esperienza che ho sentito da parte di qualcuno in questa categoria, vi posso tranquillizzare. Io, un uomo di calcio, da un pochino fra giocatore e dirigente, credo che il calcio sia uguale in tutte le categorie, nel senso che i parametri, le idee, e diciamo come va costruita una squadra che sia una squadra di internazionale o di serie A, i crismi sono quelli, cambia solo la qualità dei giocatori e l'ambiente dove tu li porti. Quindi noi dovremmo tenere presente che siamo a Parma, dovremmo costruire una squadra di profilo di serie D vincente che poi da quel telaio possa continuare a crescere anche gli anni stessivi. Non è facile perché, come abbiamo già detto, siamo partiti in clandestinità, oggi siamo ufficiali, abbiamo lavorato un po' sott'acqua, chiaramente senza poter prendere impegni con nessuno, e nel frattempo abbiamo costruito qualcosa, stiamo costruendo qualcosa che secondo noi può essere quello che questa città si aspetta. Non sarà facile perché partiamo con delle difficoltà, nel senso che partiamo in ritardo, molti giocatori magari di prime scelte sono già andati, ma quello che vi chiedo, è quello che ha detto anche Lorenzo Minotti, non ci facciamo prendere dal panico, non ci facciamo prendere dalla fretta, noi se anche arriveremo un pochino dopo, quello che è importante è non sbagliare i profili, non sbagliare gli uomini soprattutto, perché per vincere dei campionati prima ci vogliono gli uomini e poi ci vogliono i giocatori. Quindi dovremmo essere bravi e attenti a non sbagliare le persone. Io non ho altro da dirvi, vi ringrazio ancora di essere qua e di aver avuto questa opportunità.